Ed ora andiamo a Opeano, il Comune infatti ha aderito all'iniziativa Il Veneto Legge con un evento per i bambini che rientra nella rassegna autunno d'autore. Promuovere la lettura tra i bambini e in tanti si sono ritrovati al parco di San Serafino ad Opeano per rispondere all'iniziativa promossa dal Comune e dalla Biblioteca Civica del Paese. In occasione del Veneto Legge è importante promuovere quello che è la buona pratica della lettura e la passione verso quello che sono i libri. Il tema di quest'anno è l'acqua e noi l'acqua in tutte le sue forme e la tela di Leo si tufferà in queste storie, giocheremo con storie che sanno di parole, musica e che avranno proprio il rumore dell'acqua. La lettura forse noi ci è stata educata poco da giovani, però noi cerchiamo di inculcarla ai nostri ragazzi, perché credo che leggere un libro, iniziare a leggere un libro da questa età potrebbe portare ad un elevato grado di cultura da parte dei nostri ragazzi. Una iniziativa che rientra nell'ambito della rassegna culturale letteraria autunno d'autore, che proseguirà sino a fine ottobre. Sono degli incontri che facciamo con la biblioteca, con i ragazzi, con le famiglie, abbiamo aperto martedì con un concerto di musica in auditorium e quest'anno si concluderà con il teatro, con una serata teatrale con l'associazione Neverland, per cui abbiamo dato un taglio un po' diverso per dare anche la possibilità di avere più possibilità alla gente di partecipare ai ragazzi e alle famiglie.